Dobbiamo cercare di analizzare l'errore che abbiamo fatto domenica per ripartire con grande energia e determinazione per lavorare a Melli e essere pronte per la partita di giovedì che è una partita molto importante. Nisco è una squadra molto solida, dobbiamo riuscire a entrare in campo con grande energia e partire sprotetto da una difesa molto forte e da Libra riuscire a trovare conti anche i contropiedi sarà importante essere molto concentrate per riuscire a fare una partita di grande cuore. Ovviamente il fatto di essere in casa per noi è un grande vantaggio perché il calore del pubblico è sempre molto importante ci dà un'energia più come è stato domenica che è sempre un'emozione vedere il palazzetto così pieno e così caldo quindi vi aspettiamo numerosi giovedì per riuscire a fare un grande risultato e dare soprattutto il meglio vi aspettiamo numerosi e grazie per il vostro sostegno.